E va detto, complimenti, complimenti per lo spettacolo al quale abbiamo assistito questa sera. Veramente un derby italiano, un berrettini che da anni non vedevamo così in forma, infatti fa bene a sorridere. Cosa è servito a Yannick per vincere? Cosa è mancato a Matteo per portarlo a casa? A Matteo è mancata la risposta e la gestione dei punti decisivi. Nei 3-3 berrett è mancato qualcosa, sia nel servizio sia nella padronanza. Era da tempo che non si giocava un match così importante e con punti così delicati. Dall'altra parte, invece, Sinner ha avuto un terzo set dove ci ha capito ben poco. Ha sofferto l'ottimo servizio di... lo sappiamo, era chiamato in martello prima che andasse con la SAT e qualcuno, in maniera ironica, potrebbe dire pure... Canta è tanto, vabbè. Dobbiamo dire questo. Dobbiamo dirlo. Sinner ha dimostrato perché è il numero uno. Oggi Berrettino ha fatto un match da top ten sull'erba e il suo terreno. Per vincere ha avuto la capacità di saper risolvere i momenti difficili, come il break subito all'inizio quarto set, che poteva essere letare. La capacità di avere i punti decisivi dalla sua parte e delle ottime risposte. Sicuramente questo match così lungo e qualitativamente di un tennis elevato potrebbe essere dispendioso per il proseguo del torneo, ma potrebbe anche dare maggiori stimoli e consapevolezze a Yannick che sull'erba, prima di Hall, non aveva mai vinto nulla. Non è mai stato protagonista, quindi l'erba comunque si sta costruendo. Lo vediamo che ogni tanto nel serve and volley lo utilizza solo quando il punto non è così pressante e ancora qualche giocata non gli riesce perfettamente. Comunque, oggi il tennis italiano ancora una volta ha dimostrato il suo straordinario momento. I ragazzi ci hanno fatto particolarmente divertire. È stato un match infinito. Per fortuna non c'era niente in contemporanea perché sarebbe stato letale dove interrompere. Un applauso a Yannick, ma soprattutto a Matteo, che speriamo nella condizione fisica lo agevolino sempre e che finalmente non ci sia più Melissa Salta, ma non per l'attacca Salta, perché giustamente quando è Melissa Salta martelli. Eccoci. Eccoci.